Ciao ragazzo. Ciao. Hai muso lungo. Ho avuto qualche casino questa mattina. Dai racconta. Sono cose private. Hai il pisello moscio? No. Sean, dopo tanti anni in cui ci siamo detti tutto, tiri fuori cose private. O è il tuo uccello o sei frocio? È il mio uccello. Cos'è il tuo uccello? Niente, Franco. Non ti diventa duro, eh? Bel casino. A chi non diventa duro? A Sean. Ragazzi, ma per la miseria. Può darsi alla prestazione ieri sera? No, no, ieri sera. È successo questa mattina, ok? Non agitarti. Succede a tutti. A me no, però agli altri sì. A te, per esempio. Non è ripreso dalla ragazza? Non è sicuramente quello. Non si sa mai. Io lo so, perché vedete, ero solo io. E il mio computer. E anche le ragazze del pianeta Troia. Sì, sono stato lì per 30 minuti e nulla. Avevo finito i fazzoletti, così avevo preparato un asciugamano. Sono stato costretto a prendere l'asciugamano. Non avevo nient'altro per pulirmi, ma niente, è rimasto inutilizzato. Sindrome della mano d'acciaio. Di cosa? Lo tieni troppo stretto. Blocchi la circolazione. Perdonami, Black Sean, credo di sapere come trattarlo con cura. Ma forse non ti trovi più molto attraente. Da quanto non regali alla tua mano dei fiori? D'accordo. Divertitevi. Buon pomeriggio, signori. Ciao. Ciao. Eh sì. Non preoccuparti, succede a tutti. Succede davvero, giusto? Certo. A me no, naturalmente, ma a te, di sicuro. Ho bisogno di voi due. Se fossi in te andrei dal medico e mi farei controllare. Ho l'appuntamento tra un'ora. Bravo, ragazzi. Lu, succede anche a te, vero? Sono cose private.